Ponte Canavese torna a essere al centro d'attenzione di un evento importante che riporterà la gente in piazza per una serata molto speciale dove il divertimento e l'allegria saranno al centro d'attenzione. 17 settembre, piazza 25 aprile a partire dall'ora 21, infatti sulla scia di quello che è stato il grande successo dell'evento dedicato a Miss Italia, dopo la bellezza sarà invece teatro della risata e del divertimento. Con i rappresentanti dell'associazione Vivere Ponte, che sono qua con noi, ovvero Walter Portacolone e Moreno Riva, cerchiamo di capire un pochettino come si svolgerà la serata e cosa c'è dietro questo evento così importante. Partirei da Walter chiedendoti, Walter raccontaci un pochettino da dove nasce questo evento, un evento che porterà tra l'altro tre artisti di fama, di calibro importante in Canavese. Sì, allora intanto grazie Davide, grazie a Obiettivo News che come sempre ci seguite in tutte le nostre necessità e nelle nostre manifestazioni. Come hai detto tu, in effetti è vero, partiamo un pochino da quello che era stato il ragionamento di Miss Italia, che ha creato così in modo sinergico una scia importante per il nostro paese. Abbiamo avuto una risonanza molto elevata grazie a questo evento e proprio in quelle fasi, proprio in quel contesto, abbiamo avuto modo di conoscere delle persone che fanno parte del gruppo Mediaset e da lì è nata un po' l'idea e anche l'ambizione con Moreno di provare nuovamente a fare qualcosa di importante. Qualcosa di importante che ha voluto dire ovviamente fare delle scelte su quelle che erano le proposte e una di queste proposte che ci è stata fatta è quella di portare un'edizione di Colorado, quindi programma di Mediaset, direttamente qui a Ponte. È stata una proposta che non potevamo ovviamente rifiutare, quindi ci siamo messi in quattro fin dall'inizio, ci abbiamo anche qui ovviamente creduto e di lì è nata un po' così, per ridere, per scherzare, tutta la trafila burocratica, amministrativa, che ha portato finalmente alla conclusione e alla possibilità di svolgere questo evento che, come dicevi tu, sarà il 17 di settembre, ore 21.30, in piazza 25 Aprile, che è questa dove oggi siamo qui, davanti al comune. Questa è una manifestazione che ci è stata proposta grazie a tutto quello che è stato visto e a quello che è stato fatto dalla sostituzione Vivere Ponte durante questi mesi, specialmente quest'anno. Un ringraziamento va anche ad un caro amico che sinceramente avevo perso negli ultimi anni, che è uno dei comici di Colorado, che è Mauro Villata. Mauro Villata ha origini pontesi, ha abitato a Ponte tanti anni. Ci siamo ritrovati così, per puro caso, a discutere di Colorado, mi sono ritrovato lui di fronte e quindi è stata così un'emozione rivissuta dopo tanti anni e per cui è iniziato questo percorso e abbiamo portato a compimento questa bella serata che si svolgerà al 17. Come re noi invece parliamo dell'associazione Vivere Ponte per cercare di rendere Ponte sempre più viva. Quindi cosa vi ha spinto a creare questo gruppo e soprattutto qual è la benzina del motore che vi porta a realizzare eventi come è stato appunto Miss Italia prima e adesso questa serata dedicata all'allegria, al divertimento e alla comicità? Vivere Ponte è nata per valorizzare il territorio, per valorizzare Ponte e l'obiettivo principale dell'associazione è quello di portare appunto in paese delle manifestazioni di eccellenza. Manifestazioni di eccellenza che servono sì per la parte turistica ma soprattutto per dare una mano, uno sbocco al turismo, al commercio, varie attività di ristorazione. Quindi più gente viene nel paese, più l'indotto pontese può giovare dalle manifestazioni. Ponte purtroppo negli ultimi anni Ponte tra pandemia e altri problemi ha avuto un decadimento. Noi vedendo questa cosa qui abbiamo detto perché non proviamo a mettersi in gioco, è nata questa associazione e sta portando di buoni risultati. Speriamo che la manifestazione che andiamo a fare al 17 sia altrettanto piena di gente, di partecipazione come è stata sì la sfilata di moda, ma anche il raduno camperisti che è stato fatto la settimana dopo dove abbiamo avuto una quarantina di equipaggi che ringrazio anche i nostri collaboratori che è il gruppo della Granda e abbiamo potuto fare quel weekend appunto con tutti questi camperisti che hanno partecipato a delle manifestazioni per i festeggiamenti del parco nazionale, hanno visitato le bellezze architettoniche del paese e nelle due serate hanno cenato nei vari ristoranti pontesi. Walter torniamo con te di nuovo alla serata del 17 perché saranno ben tre i comici che saleranno su questo palco speciale che verrà allestito in questa piazza dove appunto la gente avrà la possibilità di seguire l'evento. Ci vuoi raccontare più o meno come si svolgerà l'evento? Sì, allora sono tre i comici, sono tre comici di Colorado di fama internazionale, quindi sono tre comici brevissimi. L'evento si svolgerà totalmente nella piazza 25 aprile con annesso l'area verde che abbiamo alle spalle. Questo per motivi logistici perché in concomitanza abbiamo anche altre manifestazioni in quel weekend. È una manifestazione che sarà da corredo al settembre pontese, come tu sai il 20 e il 21 avremo la fiera del settembre pontese quindi abbiamo pensato di fare una serata in collaborazione con tutto quello che sarà l'iter della fiera. La manifestazione inizierà alle ore 21, durerà fino alle ore 23 e si alterneranno sul palco i tre comici di Colorado. Voglio aprire una parentesi e ringraziare tutti gli sponsor che ci hanno dato una mano. Come si sa, come tutti sanno, chi è abituato come noi a organizzare eventi o a fare amministrazione non è mai facile organizzare manifestazioni di questo genere. Abbiamo avuto la fortuna e la collaborazione di alcuni sponsor privati tra i quali alcuni sono stati anche trovati dal sindaco Bruno Riva che ringrazio altri sono stati trovati da noi. Abbiamo lavorato molto bene con tutti quelli che ci hanno dato una mano e quindi il ringraziamento grande va anche a loro perché tutto questo è fattibile sì perché noi ci crediamo, lo vogliamo e lavoriamo ma anche perché tante persone, tante aziende, tante persone private credono in noi, hanno la volontà di darci una mano e quindi grazie anche a tutti gli sponsor che permettono sempre di realizzare queste bellissime manifestazioni. Poi speriamo ovviamente che non sia l'ultimo, nel senso che come si dice non c'è due senza tre quindi Miss Italia, Colorado, stiamo già pensando poi con Moreno ad altre cose importanti per l'anno a venire ma queste saranno poi da scoprire nel corso delle prossime edizioni. Moreno, tu prima hai parlato una cosa importante, hai fatto un inciso dicendo arriviamo da due anni sicuramente non faci dove tutto quello che è stato legato alla pandemia ha ridotto, per non dire cancellato in molte occasioni, gli eventi quindi riportare la gente in piazza, non solo i pontesi ma in generale tutti i canalesani quanto è fondamentale in questo 2022 ma anche per il futuro del territorio? Ma il fare manifestazioni di una certa portata e livello portano beneficio non solo a PON ma portano beneficio alla vallata diciamo che noi stiamo cercando di avere un'utenza di persone esterne da PON esterne delle nostre vallate ma appunto per poter valorizzare il territorio durante la sfilata di moda abbiamo avuto l'opportunità di avere una vastità di provenienze sia piemontesi che non piemontesi che poi nel mese di agosto alcuni di questi li abbiamo visti sul nostro territorio quindi direi che è un buon risultato PON è comunque il paese di Fondovalle ed è la porta delle due vallate quindi credo che se PON riesce a avere uno scenario importante non può che portare beneficio sia alla Valle Orco che alla Valle Soana rimarco ancora il discorso che il nostro territorio purtroppo anche a livello di industrie è penalizzato quindi bisogna cercare di puntare su un altro settore anche per le nuove generazioni e credo che sia il turismo la carta da poter giocare Walter, turismo, bellezza, divertimento, allegria, comicità quindi sono tutti diciamo sicuramente importanti per questa ripartenza ormai una ripartenza lunga che ormai siamo ripartiti siamo nel pieno della corsa direi che a questo punto possiamo lanciare l'invito non solo ai pantesi ma tutti i canavesani, anche i non canavesani a venire a Ponte il 17 settembre per questo momento che vuole essere appunto un momento da vivere insieme sì esatto Davide la ripartenza c'è, c'è stata la volontà da parte nostra c'è quindi è ovvio che l'invito a tutti di partecipare il 17 settembre all'ora 21 a questo bellissimo spettacolo di Colorado non può che essere entusiasmante farlo ti direi chi vuol vedere in anteprima anche il montaggio, i preparativi, le scenografie eccetera può tranquillamente arrivare già nel pomeriggio perché comunque la troupe, i comici eccetera saranno presenti già nel pomeriggio per cui chi ha piacere di venirci a trovare anche prima può assolutamente assistere alla preparazione spendo una parola per dire questo è molto vero e molto corretto il fatto di rilanciare il territorio ci crediamo tantissimo in Moreno la carta vincente non è solo Vivere Ponte, Associazione Vivere Ponte la carta vincente è l'unione, è l'aggregazione e il lavorare insieme non mi stancherò mai di dirlo bisogna posare un po' le carte dell'invidia, della delosia e di tutto quello che sono a volte quei piccoli ragionamenti che fanno male al territorio bisogna riuscire ad unire le forze bisogna lavorare in sinergia con i comuni, con le associazioni, con il parco con tutti coloro che credono e che vogliono che questo territorio riparta quindi l'invito è sempre come mio solito a tutti noi ci siamo, se voi ci siete sicuramente insieme avremo di grandi risultati Moreno a questo punto la chiusura è appunto Vivere Ponte può essere il tridunion non solo con il territorio cittadino di Ponte ma come diceva Walter con tutto il territorio canavesano essere un punto di riferimento che va oltre il campanellismo diventare un'associazione che non solo per Ponte ma per tutto il territorio può essere appunto, diciamo così, fare da apertura a quello che può essere un futuro un po' più radioso per un territorio che ha bisogno di momenti come questo Penso anch'io che sia così e quindi speriamo che tutti quanti insieme riusciamo a portare un gran risultato al nostro territorio Io parlo di territorio non di paese ma per un discorso appunto che io la vedo in una maniera più ampia e quindi credo che se il territorio, Ponte, le Vallate, il Canavese riparte non può portare che beneficio a tutti quanti